Un chilometro di cammino e ci fermammo ai piedi di una collinetta dove, mediante un filo di ferro, ci fu appeso alle mani legate un sasso di almeno 20 kg. Fummo sospinti verso l'orlo di una foiva, la cui gola si apriva paurosamente nera. Uno di noi, mezzo istupidito per l'esercizio subito, si gettò a Orlando nel vuoto, di proprio iniziativa. Un partigiano allora ci imprese di seguirne l'esempio, poiché non mi muovevo, mi sparò contro. Uccisi dai partigiani comunisti di Tito solo perché italiani, una pulizia politica ed etnica in piena regola. Nelle cavità carsiche chiamate foibe vennero gettati ancora vivi, l'uno legato all'altro col fil di ferro, uomini, donne, anziani e bambini. Il giorno di ricordo non è solo dedicato a questo massacro, ma anche alla tragedia degli istriani, fiumani e dalmati. In 350.000 furono costretti all'esodo a lasciare case e beni per fuggire con ogni mezzo dalla furia ideologica e sanguinaria dei partigiani del mare sciallotito. In gran parte finirono nei campi profughi e ci rimasero per anni. Una strage sulla quale per mezzo secolo si è steso un pesante silenzio, fino a quando nel 2004 il Parlamento ha istituito una giornata commemorativa per queste vittime. A raccontare la sua esperienza di vita nella Sala Verdi del Teatro della Fortuna di Fano è stato lo scrittore nato in un campo profughi Diego Zandel. Questo ha detto è il risultato di una guerra persa da tutti gli italiani. Io ho vissuto dieci anni nei campi profughi, furono poi abbattute le baracche di muratura in cui noi vivevamo e furono date i primi appartamenti, di compartamenti piccolissimi, di media, i miei genitori di 62 metri quadri, però io venivo da spazi così ristretti che mi sembrava di entrare in una reggia. Il pensiero di avere una cucina divisa dalle stanze, dal bagno, mentre noi prima avevamo tutto dentro un unico locale. E questo non è per dei genitori come i miei che avevano abbandonato un lavoro a fiume, avevano abbandonato una casa, una bella villa in cui vivevano e altre cose, per i nomi dell'Italia, per continuare ad essere italiani perché non volevano vivere sotto un altro paese. Quindi lasciarono quel paese, lasciarono la loro città, i loro morti, qualcuno come i miei genitori lasciarono i propri genitori. Si trovarono così a vivere prima nel campo di concentramento di Servigliano e poi in un altro campo profughi, al villaggio Giuliano Dalmata. Come ha detto qualcuno, noi siamo italiani due volte, una per nascita e l'altra per scelta. Bisogna rendere giustizia al passato, ha detto il presidente del Consiglio Comunale Rosetta Fulvi, quanto successo deve essere ricordato per onorare coloro che hanno perso la vita e far sì che il loro sacrificio non vada disperso. Queste giornate servono per far capire che la convivenza, la democrazia e la libertà, concetti poi della nostra cara e vicina resistenza, così come dice l'articolo della nostra Costituzione che l'Italia ripudia la guerra e vuole la pace tra i popoli, ci permettono anche di avere una visione più seria, una visione anche unitaria e forte dell'Europa. E questo ci può veramente salvare e far sì che il futuro possa far tesoro del passato ed evitare che certi drammi e certe pagine dolorose non si debbano più ripetere. Purtroppo questa è una pagina di storia che è stata inserita soltanto da pochi anni, anche nei libri degli studenti. Sì, una pagina che da poco è rientrata nei libri di storia, una pagina nazionale ed europea di storia che va invece recuperata in maniera laica, in maniera oggettiva, individuando precise responsabilità, una pagina che parla al presente, interroga il futuro, perché ci insegna che i nazionalismi, la guerra, oggi come allora, sono i mostri, i sogni della ragione che vanno combattuti in ogni momento e in ogni passaggio della storia. Grazie. Grazie.